Ecco, abbiamo deciso di pranzare fuori casa oggi, profittando della festa, ci siamo portati delle crepes con formaggio e insalata e ci siamo portati in questa spiaggia meravigliosa, ci siamo le Dune che è circa 30 chilometri da Burgess, mezz'ora di super strada. Ecco qua, questo è un paesaggio proprio da sogno, proprio reale. C'è anche un bel cabinato che sta passando. E la macchina nostra l'hai presa? Eh no. Devi prendere anche la macchinetta nostra. Eccola qua. Qui sopra è la strada. Dove c'è la macchina c'è la strada ovviamente. Parcheggi, scendi, pranzi. Io ripeto, faccio il pappagallo, e così. E passi la giornata. Ecco il cabinato, da quella parte c'è Sozopol, dalla parte di qua c'è Primorez e qui c'è Crasuna-Veduna. Un abbraccione a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao.